Super bonus, la Regione ora può tornare in pista? Cessione dei crediti partitari aperta grazie alla legge approvata in Basilicata. Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Sospiri dice che i nostri uffici stanno studiando queste ipotesi venerdì il verdetto, insomma le somme incagliate. L'ente potrebbe acquistarle per cederle poi agli istituti bancari, la condizione imposta dal MEFA, l'operazione sarebbe condotta da una società collegata alla Regione. Noi abbiamo interpellato Antonio Dintino, Presidente regionale del Lanci Associazioni Costruttori, che si esprime proprio a nome dell'associazione. Ma si può davvero tirare un sospiro di sollievo e soprattutto cosa è accaduto in Basilicata? Purtroppo il sospiro di sollievo non lo possiamo ancora tirare, la strada molto probabilmente è ancora lunga, queste non sono soluzioni che possono portare alla risoluzione generale del problema. Noi abbiamo i crediti incagliati che ormai sono circa un anno che sono in vigore, le imprese sono tutti quanti allo stremo, anche per fare il lavoro del PNRR e per fare la ricostruzione in Abruzzo, Marche e nel Lazio, ci servono imprese solide e oggi le imprese hanno questa problematica della liquidità e quindi c'è bisogno di sbloccare i crediti. Tornando alla soluzione della Basilicata, riteniamo un'ottima soluzione, tant'è vero che noi siamo anche in contatto con la Regione Abruzzo per cercare di provvedere a fare la stessa cosa, però ahimè io penso che sia una cosa un po' la goccia in un bicchiere se non nel mare, perché purtroppo la legge di febbraio ha inficiato per tutti gli enti pubblici di ricomprare i crediti delle aziende e quindi oggi lo possono fare soltanto quelle società di diritto privato degli enti pubblici. Faccio l'esempio con l'Abruzzo, noi abbiamo le ASL e la tua che avrebbe veramente tanto denaro in F24, quindi la possibilità di poter scorporare con i crediti fiscali, ma purtroppo questi due enti, cioè l'ASL e la tua, hanno un consolidato insieme al bilancio della Regione Abruzzo e quindi per legge, la famosa legge del febbraio 2023, purtroppo non lo possono fare. Insomma dunque per l'Abruzzo è più difficile del previsto oppure qualche speranza potrebbe esserci? Noi confidiamo, un po' di speranza c'è sempre, tant'è vero che ci hanno promesso dalla Regione che stanno studiando un po' tutti i bilanci e le situazioni degli enti di diritto privato in capo alla Regione e quindi stiamo aspettando un po' che ci dicano quanti sono gli importi, speriamo che siano importi importanti per poter fare qualcosa di interessante. Faccio un esempio, se gli importi sono sotto, inferiori ai 10 milioni, lei capisce che purtroppo è quella famosa goccia nel bicchiere di cui si parlava prima. Qui dovremmo parlare di importi sopra i 50 milioni ai 100 milioni perché i crediti incagliati in Abruzzo sono circa 800-900 milioni.